Tantissime persone ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata promossa dalla CGL Cislewil, un'iniziativa per ribadire il profondo sdegno per l'efferato attentato che ha colpito in ermi le allune di una scuola di brindisi e per ricordare anche le vittime della mafia. CGL Cislewil hanno organizzato una fiaccolata per dimostrare la loro preoccupazione, ma anche le loro proposte per una società migliore. Per cui percorreremo le vie di Pordenone con queste piccole fiaccole, finiremo in un luogo simbolo della storia di Pordenone, che è la piazzetta Municipio, dove ascolteremo delle poesie, alcuni scritti e qualche parola per ricordare questa ragazza che è morta e anche il nostro futuro. Presenta la fiaccolata anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Sarebbe bello non avere più manifestazioni di questo tipo, perché noi ne colleghiamo sempre a dei momenti particolarmente tristi, a momenti in cui non siamo ancora capaci di capire e di decodificare cosa è successo, la verità, tutte le stragi che ci sono state in Italia. Insomma, noi questi copioni non li vorremmo più recitare. Però stasera siamo qui per dare solidarietà e quindi è giusto che noi come istituzione, proprio come comune, come amministrazione, si sia vicini alle persone di Brindisi, alla città di Brindisi, a chi ha avuto i lutti e noi si sia vicini soprattutto a chi della legalità fa un valore irrinunciabile. Siamo proprio qui per questo.